Quando una salsa si riduce, il suo sapore va a poco a poco concentrandosi. Inoltre dovremo tenere in conto che quando evapora il liquido, in essa aumenta la concentrazione del sale. Per questo, nel momento in cui pensiamo che abbia il sapore giusto, è consigliabile legarla con un addensante come l'amido di mais o di riso.